Il drappo del Palio della Balestra 2017 è originale nella sua composizione tra passate e futuro, un balestriere nel classico costume quattrocentesco e un altro pensato con un ideale abito del futuro, entrambi inginocchiati a Sant'Ubaldo, come a voler dire che un futuro per questa antichissima tradizione ci sarà sempre, almeno finché ci sarà qualcuno disposto ad imbracciare la balestra. È opera del maestro Enzo Carnebianca, romano di nascita, surrealista di corrente artistica, un palio che di fatto non sarà assegnato, anche qui dunque la sua originalità, perché sarà destinato ad onorare il patrono. Quest'anno è stato realizzato dal pittore, dal maestro Enzo Carnebianca, è un'opera veramente, veramente importante e d'accordo con gli amici biturgenzi abbiamo deciso di non assegnare l'opera reale, ma di copiarlo per assegnarlo al vincitore e alla società a cui appartiene il vincitore, mentre l'originale andrà finemente incorniciato a far bene la mostra di se stesso dentro la casa di Sant'Ubaldo per i primi due anni. Poi vediamo se ci sarà la possibilità di riportarlo al nostro partiello. L'appuntamento per la disputa di questo palio è per domenica 28 maggio con le società dei balestrieri di Gubbio e Sansepolcro che faranno il loro ingresso in piazza Grande alle 16 e 15 con i rispettivi cortei, mentre la sfida vera e propria è attesa a partire dalle ore 17 e 30. Prove al balipedio anche questo pomeriggio sotto la guida del maestro d'arme Rodolfo Radicchi che alla vigilia del palio però non manca di lanciare rimproveri. Io ho visto tanti balestrieri che sono perfetti, però c'è una cosa dolente che mi dispiace dirla ma c'ho tanti altri balestrieri che non comprendono il valore del palio e non si allenano come vorrei io, come vorrebbe la società. Non so perché, però mi dispiace. Il palio 2017 ha ricordo di Massimo Mencarelli di cui ricorre il decennale dalla morte. Balestriere Doc prematuramente scomparso, figlio di un valente balestriere, Nazareno. A lui la società Eugubina ha voluto dedicare un commosso ricordo. Balestriere Doc ci ha lasciato ancora giovanissimo, il più giovane dei quattro fratelli Mencarelli che avevano seguito il palio nell'arte della balessa. Incerto è il piazzamento ad un palio conteso fino all'ultimo, ma certo è il ricordo perenne che il socio ha lasciato in ognuno di noi.